Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo un soggiorno, in California per impegni lavorativi e momenti di relax, con amiche e colleghe. Le ultime foto la ritraggono mentre trascorreva del tempo sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ma ora è tornata nella sua città natale, pronta ad affrontare la vita quotidiana. Oggi, a Milano, è con i suoi figli Leone e Vittoria, che avevano trascorso del tempo a casa del padre, Fedez. La separazione tra Chiara e Fedez, una volta celebre coppia, sta pesando sui due piccoli che stanno iniziando a comprendere la nuova realtà familiare. Nonostante le sfide personali, Chiara è sempre apparsa forte e risoluta, continuando a gestire la sua carriera imprenditoriale e il suo ruolo di madre con dedizione e passione. Il ritorno a casa potrebbe rappresentare un nuovo inizio per lei e i suoi figli, un'opportunità per consolidare il legame familiare nonostante le circostanze difficili. Mentre affronta questa fase di transizione nella sua vita personale, Chiara continua a essere un'icona di stile e successo nel mondo della moda e dell'intrattenimento, ispirando milioni di persone con la sua determinazione e la sua autenticità.